Ma cosa accade alla nostra mente quando la macchina inizia a rompersi, quando le informazioni e gli stivali trasmessi dal nostro corpo sono danneggiati? Mi fai preoccupare, andrò a trovarlo. Mi ha anche detto il nome della vostra vecchia amicizia di non andare assolutamente a cercarlo. Leggerò la lettera, cercherò di capirci qualcosa di più. Negli ultimi giorni il dottor Jekyll mi ha mandato per tutte le farmacie di Londra a cercare una certa sostanza. Sì, qualcosa di molto raro, una sostanza preziosa sicuramente, una sostanza molto preziosa. Da uno di questi ordini tutti. E' come se si mettesse a rompere i tuoi stessi granaggi e questo, questo è un errore. Quella figura che hai visto la hai riconosciuta. Sei pronto pulla? Ho visto un misterai d'entrare dalla forza della vecchia sala di anatomia a Cale Spisso quando Jekyll non c'è. Oh, certo signore, misterai dalla chiave. Ah, bene. E che cosa sta succedendo? Questa storia scomincia a procurarmi spaventi. Questa storia scomincia a procurarmi spaventi. Grazie a tutti.